Dov'è andato quell'altro? Non lo so, non lo so. Avanti, su, levati di qui. Alzati. Levati, levati! Mi arrendo! Mi arrendo! Uno prenda questo e lo porti di sopra. Seguitemi voi altri. Avanti! Dov'è andato quell'altro? È salito di sopra. Muoviti, grassone, muoviti, su! È ferito? No, non ho niente. Ispettore! Ispettore! Eccolo là! Fermi, 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 fermi! Tanto non può scappare. Avalite, giù. Ci, signore. Ani voi. Adesso lovarna pescare.